Ecco sono qui, pipi calza lunga così mi chiamo, credo proprio che una come me non c'è stata mai, ogni volta che devo far qualcosa condino guai, ma alla fine poi vedo che sono tutti amici miei. Pipi 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 pipi, che nome fa un po' ridere, ma voi riderete per quello che farò, tutto il giorno sto con una scimmietta e un cavallo bianco, con un topo che tutto il mio formaggio si vuol mangiare, forse non lo sai ma io qualche volta divento magica, quello che tu vuoi dillo me che forse te lo darò. Pipi pipi pipi, pipi pipi pipi, pipi pipi pipi, pipi pipi pipi, fuoco, punta la bambina da morto, caricate la colubrina, mollate il trinchetto, preparate gli alpiani, fuoco, pronti per l'arrabaggio, il trinchetto, mollate il trinchetto, fuoco, avanti con gli alpiani, arrabaggio, avanti. Senti grossissima zucca, pipi non troverà mai il nostro nascondiglio. Te ne accorgerai, la vedi questa, lo sai che cos'è vero? Glieno già spedite due alla mia pipi e lei le riceverà. Dammela, dammela! Pipi non tarderà, vedrete. Credi che noi abbiamo paura di lei? No zucca, non abbiamo paura, abbiamo 284 pirati e 250 moschetti, abbiamo più di mille cannoni, 500 sciavole e 20 fucili. Ma che ne dici grossissima zucca? E poi non riuscirà mai a entrare nella nostra fortezza. Abbiamo... No, non riuscirà mai. La notte è scesa e il mare calmo dorme già, lassù nel cielo la luna bianca veglierà, si entio intorno dormono tutti già. Cos'è che brina laggiù in mezzo agli alberi? Pipi, quelle sono bestie feroci, credi? E va bene, vuol dire che adesso gli facciamo vedere chi siamo. Ne hanno già abbastanza. Su, andiamo. Sai, in quest'isola si sta proprio bene. Se non dovessimo liberare il tuo padre, mi piacerebbe rimanere qui. Ma sentilo, solo un ragazzo può dire cose così stupide, io non ci vorrei rimanere qui. Aiuto! Sta tranquilla, non c'è pericolo, hanno più paura loro di noi. E se non riuscissimo ad andare via da qui? Beh, speriamo di no, Annika. Tu però hai detto che da queste parti non passa mai una nave. Ah sì, ho detto questo. Sa, io parlo poco, ma quando parlo dico sciocchezze. Davvero, Pipi? Sì, da qui passano continuamente delle navi. Pipi, aiuto! Ma cos'è questo? Tommy, Annika, venite fuori! Che succede? State a sentire, così si canta solo sulle navi. Visto, cosa vi avevo detto? È una nave. Una nave pirata. E se fosse Blutz Vente con i pirati che tengono prigioniero tuo padre? Potrebbe darsi, vado a vedere. Attenta, Pipi, attenta! Pipi! I pescicani, è pieno di pescicani! Torna indietro, Pipi, fa presto! E perché? Lì si stavo io! State attenti, brutte bestiacce! Arriva Pipi, calze lunghe! Che succede oggi? Ben alzato, Oscar il Guercio! Ti sei svegliato presto stamattina! Anche un capitano dei pirati ha bisogno di riposo. Questa sera si attacca! Questa sera, botte! Speriamo che non ci sia un ambutinamento! Con me mai! Già, noi due, Calle, Oscar e il Guercio. Siamo i più temuti pirati del mondo. Ci riusciremo! Già, faremo vedere a tutti chi siamo. Soprattutto a Blut Svente e a Taccatunga. Si roderà dalla bile quel gaglialfo. E quando avremo il tesoro del capitano Calze Lunghe, non saremo solo i pirati più temuti, ma anche i più ricchi! Spiegatele bene! Levate l'ancora! Lotto su Taccatunga! Si va a Taccatunga! Che cosa è stato? Ah, non lo sai che qui è pieno di pescicani. Sai che ti dico? Con Blut Svente io che basterei io da solo. Ci libereremo di loro per sempre. E Calze Lunghe lo terremo nella stiva a pane d'acqua finché non ci avrà rivelato dove è nascosto il tesoro. Tirate fuori tutto. Sì. Che vuoi fare, Pippi? Diventiamo pirati e ci impadroniamo della noi. Noi tre. Ma non è possibile. Con l'astuzia tutto è possibile, diceva zio Fabiano il pirata. Lasciate fare a me. Oh, Blut Svente, non vorrei essere nei suoi panni. E io e quelli di occhi hanno le ore a contare. Oscar! 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 Diavolo, ma chi è? Oscar! Chi grida il mio nome? Oscar! Non ne ho idea. Oscar! Vieni, Oscar! Ma su quest'isola non c'è nessuno, è disabitata. Che siano gli spiriti. E perché chiamano proprio me? Ehi! Chi mi sta chiamando? Che cosa volete da me? Oscar! 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 Devi scendere a terra e sentire cosa vogliono. Chi? Io? Certo, stanno chiamando te. Ma questi sono spiriti. Non vorrai che io scenda e mi inoltre da solo in un'isola piena di fantasmi. Oscar! Il tesoro dei pirati è qui! Vieni a prenderlo! Che sia vero. Andiamoci, Oscar, così lo sapremo. Tutti alle scialuppe! Pura a freno. Resto di guardia a voi. Mettete in mano alle scialuppe! Presto, muovetevi! Avanti, si va a terra! Presto, più in fretta! Faffe molli! Avanti, forza! Avete paura di farmi male! Oscar! Al! Mirare sui remi! Sui remi! Pronti per lo sbarco! Oscar! Oissa! Oissa! Basta! Seguitemi! Oscar! Atenti a non cadere i trapoli! Quest'isola non mi piace. State attenti. State pronti a far fuoco! E' deserto! E si sente chiamati? Sì, tenete gli occhi aperti! Cerchiamo di stare uniti! Come si fa a sparare contro i fantasmi? Non vi sparpagliate! Ehi, guarda laggiù! Oscar! Guarda un po'! Una scimmia con un golf! Ma non può essere! Ne avevi mai vista tu? Stupido, signor Nilsson! Vedrai che ora si accorgono di quello che vogliamo fare! Non mi avrà chiamato la scimmia! Cosa? Una scimmia che parla! Ma tu sei... Una scimmia di solito non gira neanche vestita su un'isola deserta! Zitto, zitto! Vieni! Signor Nilsson! Vieni subito qui! Prendere a terra solo perché qualcuno chiama! Sarà stato un papagallo! Sono dato qui! Oscar parlava di un tesoro! Ma non è questa l'isola! Ce l'hai tu il signor Nilsson? Sì, qui nella borsa! Io dico che è meglio tornare sulla nave! E se fosse questa l'isola del tesoro? Ma che tesoro? Meglio andarcene da qui! Ma non c'è nessuno! Sono scimmie e papagalli! Ma chi stiamo cercando? Andiamo a cacciare i fantasmi! Te l'ho detto, non mi piace quest'isola! Ma perché tutta un tratto hanno smesso di chiamare? E come facciamo a capire dove sono se non chiamano più? La cosa diventa sempre più misteriosa! Ehi! Torniamo alle scialuppe! Alle scialuppe! A presto! A le scialuppe! A presto! Vieni! Via! Voto! Aiuto! A presto! Sali sulla scialuppa prima che i pescicani ti mangino! Dai! Che succede? È Raffaele! Ah sì, chiede aiuto! È successo qualcosa! Raffaele, è il mare! Andiamo a vedere! Stala, Raffaele! Stala, Raffaele! Stala, Raffaele! Pippi, lo sai che mi fanno un po' appena? Non potranno più venire via dall'isola! Perché? Non hanno le scialuppe! Se si danno un po' da fare ce la faranno benissimo! Beh, sì! Però noi non dovevamo portargli via la loro nave! Ma questa nave non è loro! Era certo di qualcun altro! E loro non ci hanno pensato su due volte a portargli la via! Non vi preoccupate! Appena saremo tornati a Villa Kunterbunt metterò un bel annuncio sul giornale! Nave pirata a buone condizioni può essere ritirata dal proprietario presso Pippi Calzelunghe! Che ci si potesse sporcare tanto in viaggio sul mare non lo avrei mai creduto! Poco male! Tanto ci sei tu! Mi butti giù la tua camicia, Tommy! È anche il tuo grembiale, Pippi! Ecco, Annika, prendi! Tanto ti ha riconosciuta! Non è possibile! Io sono il pirata Capitan Fabian! Capitan Fabian, il terrore dei sette mari! Ha ha! Che cosa vuol dire questo? Ha ha! Quando i pirati hanno fame ridono tutti così! Ha ha! Magnifico! In nessun posto c'è tanto da mangiare come dai pirati! Prendo io il timone! Il timoniare può andare a mangiare! Perbacco! Capitan Fabian in persona prende il timone! Già! Meno male! Ho una fame da lupo! Allora un bel pasto di pirata è proprio quello che ti ci vuole! Allora un bel pasto di pirata è proprio quello che ti vuole! Il pirata Zio Fabian dalle Antille al Martaban Percorrendo tutti i mari se ne andava a saccheggiar Arrivato nel Peru la bandiera è stata su Con corsari 33 fece prigioniero il re Ruba oro in quantità il pirata Zio Fabian Tutto il mondo già lo sa e gran paura ne ha Il pirata Zio Fabian dalle Antille al Martaban Percorrendo tutti i mari se ne andava a saccheggiar D'un corsaro col coltel Prigioniero il suo papà Pippi a liberarlo andrà Dalla torre del castel Con la rotta siamo già Che da te ci condurrà Pippi sa quel che si fa E costare niente era Che c'è signor Nilsson? Guarda ecco perché mi hai svegliata Tommy Annika Terra in vista E' una fortezza quella E c'è anche la città Chissà come si chiama Non può essere che tacca tuca Eccomi papà Adesso arrivo io Papà Tutto il mio caro Devo farvi il solletico col coltello Rispondi Zucca Devo farti il solletico col coltello Ci penso io Aspetta Bravo Tira Tira Grossissima Zucca Pippi 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 Allora in baggio Allora in baggio Pippi Allora in baggio Io dico che mio padre sente che stiamo arrivando Speriamo che non lo sentano anche i pirati Adesso lo vediamo subito Va avanti tu Tommy Sì Spicciati Adesso noi due Annika Adesso noi due Annika Adesso noi due Annika Ci sono No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Robi, che cosa è successo qui? Allora, rispondete. Veramente non lo sappiamo neanche noi. È successo tutto così. Come? Ecco, non... Chiedilo a me, lo so io quello che è successo qui. Cosa? E tu chi saresti? Chi sono? Un pirata. Uno molto piccolo e debole. Non lo vedi anche da te? Un pirata? Tu saresti un pirata? Sì, un poco di buono proprio come te. Come ti permetti di parlare così? Guarda che io non sono un semplice pirata. Sono un capitano. Un capitano dei pirati. Tu pretendi di essere un capitano? Ma via, non raccontare frottole. Se tu sei un capitano, allora io sono la zia di Topolino e Paperino. Sta a sentire, non ti permettere di parlare così al capitano Bluth Svente. Tutti devono obbedirgli. Chi non lo fa avrà poco da vivere, eh? Tienilo a mente. E adesso una buona volta dimmi chi sei. Ecco sono qui, Pippi calze lunghe, così mi chiamo. Pi, 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 che nome fa un po' ridere. Ma voi non riderete per quello che farò. Pippi calze lunghe? Sì, è quella di cui... che... che è sempre così... Sì, esatto, quella. Quella che è sempre... quella che è sempre cosa. Volevo dire... che è sempre così sfacciata. Sì, certo. Pippi lotta victualia. Che cosa sei venuta a fare? Hai intenzione di fermarti a lungo a Taccatucca? No, voglio andarmene via il più presto possibile da quest'isola. Voglio solo portar via il mio papà. E non ci metterò molto, vedrete, ve lo garantisco. Il tuo... il tuo papà? E dov'è il tuo papà? Già. Chissà dove sarà, eh? Ai, ai, ai. Vuoi darmi ad intendere che non sai dove si trova, mio piccolo Blutzwente? Beh, beh, ma è la verità, davvero. Come faccio a sapere dov'è tuo padre, scusami? E noi non lo conosciamo nemmeno, quindi non possiamo sapere dove sia. E poi, tanto, non potrai mai entrare dove lo teniamo prigioniero. Vieni, Yocke, è meglio che andiamo adesso. Un po' più in là. Forse è il caso che ora andiamo tutti a dormire. Sì, sì, andiamo. Facciamo come dice lei. E anche tutti, per questo. Non voglio farlo vedere la finestra. È capace di tutto. Forte, molto, molto forte. Sì, lei è la più forte di tutto il mondo. Marco, tu parli anche la nostra lingua. Non bene, è solo poco. Io posso dire. Marco, vieni un momento qui. Hai mai sentito parlare del grande capitano Efra in calze lunghe? No, no, io... Io niente, niente sapere. Ha un pancione grosso così. È il mio papà e prima la pancia era anche più grossa. Ah, occhi chiusi. Così? Sì, lo so, gli avevano bendato gli occhi, me lo ha scritto. Cosa? Lo hanno anche pestato e picchiato, quei miserabili. Senti un po', Rosalinda. Perché sei sempre così cattiva? Cattiva? Io ti voglio solo fare il saluto con il portello. Ehi, ehi, ehi! Tu sei anche peggio di quel ridicolo messerio che è del tanto temibile Blut Svent. Perché non sei un po' più gentile con me? Siamo tutte e due prigionieri. Tu come me. Sei gentile. Dobbiamo metterci d'accordo noi due. Uomini in coperta! Uomini in coperta! Smetti la Rosalinda, non siamo su una nave. Credi? Io credo che Pippi verrà presa. Credi tu? Credi? Gli strappo le orecchie io a quello. Avanti, muovetevi! Prendate tutte le porte! Avete sentito? Non è in trappola! Presto, presto! Avanti, non perdiamo tempo! Piazzate i cannoni! Vate presto! Pippi è sull'isola! Marco, non c'è un'altra uscita da cui possiamo scappare. Uscita, hai capito? Sì, la uscire. Faccio vedere. Presto, fai nascondere Tommy Annika da qualche parte. E tu, Pippi, io vi raggiungo appena posto. Ecco sono qui, Pippi calza lunga, così mi chiamo. Credo proprio che una come me non c'è stata mai. Ogni volta che devo far qualcosa condino guai. Ma alla fine poi vedo che sono tutti amici miei. Pippi, 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 che nome! Fa un po' ridere, ma voi riderete per quello che farò. Tutto il giorno sto con una scimmietta e un cavallo bianco. Con un papo che tutto il mio formaggio si vuol mangiare.